Che cos'è dunque OMS? Perché usiamo questo framework che si chiama Object Modeling System. Quando voi andate ad usare un modello, e di questo stiamo trattando, in particolare un modello idrologico, ci sono tantissime operazioni che voi dovete mettere assieme. E che sono rappresentati per esempio in questo grafo. Alla sinistra vedete quelle che si chiamano System Components. Ci sono varie componenti. Una è, per esempio, voi in un modello avete dei dati in input. Questi dati in input possono essere, per esempio, dei dati misurati come le precipitazioni, oppure possono essere dei parametri che sono di controllo per le simulazioni che voi dovete fare. E come vedrete, per esempio, uno di questi dati potrebbe essere la forma della griglia sulle quali voi eseguite, per esempio, il calcolo dell'equazione di Richards. Tutti questi elementi sono nella sostanza dei sottomodelli, richiedono dei pezzi di software. Nell'idea tradizionale dell'architettura dei modelli, tutte queste cose le hanno messe insieme in un software, tutto unico. E poi si preparavano i dati di input e si ottenevano i risultati, che sono poi, per esempio, come avviene l'infiltrazione. Qui in realtà, vedete, è rappresentato un modello idrologico un po' più complesso, dove ci sono il calcolo della neve, le acque superficiali, le acque sotterranee, la crescita delle piante e varie cose. Costruire un modello come si costruiva una volta significava scrivere centinaia di migliaia di righe di codice che poi erano difficili da gestire e da modificare. Da un certo punto di vista l'utente finale vede poco di questa struttura, l'utente finale come potrebbe essere, potreste essere voi. In questo caso interessa che sia chiaro come mettere i dati di input, come sia chiaro interpretare i dati di output. Però arriva un certo momento in cui bisogna cambiare alcuni degli elementi che stanno all'interno, perché per esempio la scienza si muove e bisogna, non so, invece di calcolare l'evaporazione e la traspirazione in un modo, si preferisce calcolarla in un altro, perché magari in una certa zona calcolare l'evoluzione del manto nevoso non è necessario, in altre zone lo è, e quindi c'è la necessità di aggiungere e di spegnere degli elementi. Se noi pensassimo quindi ad un modello complessivo dell'idrologia e non avessimo alternative, dovremmo mettere tutto dentro insieme in un unico posto, e poi chiunque gira questo modello dovrebbe conoscere tutti gli elementi e anche quelli che non gli interessano. Per cui dal punto di vista dell'utente è più semplice separare la struttura dei modelli che vengono eseguiti in parti che si chiamano componenti, che comunicano tra loro e che si possono mettere insieme. EOMS quindi è un'infrastruttura, un framework appunto, che permette di fare questo lavoro. In particolare l'Object Modeling System è stato sviluppato dall'USDA, che è il Dipartimento di Agricoltura americano, in particolare il suo centro di ricerca in Fort Collins, e ha come obiettivo, cioè in realtà è un framework molto generale, ma ha come obiettivo trattare modelli che hanno a che fare con l'agricoltura, l'ambiente e le acque. E questo è un ambiente per sviluppare i modelli in realtà, e di cui voi vedete solo però cogliete alcuni elementi di struttura. E poi oltre ai modelli, i modelli bisogna testarli, bisogna validarli, e bisogna anche poi fornirli agli utenti finali. EOMS fornisce tutti questi strumenti. E in particolare io e il mio gruppo di ricerca abbiamo trovato che questo fosse un elemento importante, un veicolo, diciamo, un ponte, come è scritto qui, per poter portare immediatamente quello che erano i nuovi ritrovati della ricerca verso un uso finale. In particolare qui sono nominate agenzie, perché l'USDA è ovviamente un'agenzia di Stato americana, e loro hanno costruito tutto questo perché quanto prodotto nella ricerca potesse poi essere utilizzato a fini applicativi all'interno della stessa USDA, per esempio, in vari progetti. Quello che dunque succede è questo, OMS permette di costruire queste componenti. Ciascuna di queste componenti è come la parte di un puzzle che viene assemblato. Quando viene costruito un pezzo nuovo, un modello, non bisogna ricostruire tutto l'elemento, ma semplicemente viene innestato in tutto il sistema. E appunto con gli scopi che vi ho appena detto, dal punto di vista del ricercatore, che potrei essere io, ma che domani potrebbe essere qualcuno di voi anche, sia che lo faccia all'interno dell'università, sia che lo faccia magari nel suo studio, nella sua dita, o nella dita per cui lavora, possa quindi costruire questi modelli, calibrarli, modificarli, e aggiustarli. La questione della modifica è una questione importante dal punto di vista di chi costruisce i modelli, perché i modelli costruiti tutti insieme diventavano incomprensibili alla fine, non si poteva praticamente modificarli. Ed è attraverso queste modifiche che in qualche modo anche la scienza avanza. OMS ha una storia abbastanza lunga, quindi parte nel 2001-2002, quindi ha praticamente 20 anni. Ci sono varie tappe che sono state, che hanno segnato questo sviluppo. Sin dall'inizio è stato costruito attorno al linguaggio Java, quindi i nostri programmi, quelli che userete voi, non sono in Python, noi usiamo Python per il trattamento dei dati esterni all'interno, però l'interno di questi programmi è costruito in Java. E in particolare, però, questo Java si può connettere a Python, ad R, che è un altro linguaggio di programmazione, e ha delle caratteristiche importanti per descrivere i bacini idrografici, ed inoltre può funzionare in modo distribuito su una piattaforma che si chiama Kubernetes. Dal punto di vista generale, questo AMS3 io l'ho scelto, perché dopo aver provato anche altri framework, perché era meno invasivo di altri, cioè dal punto di vista della programmazione, questo imponeva meno restrizione, e in pratica permetteva di scrivere dei programmi esattamente come si sarebbero scritti o quasi senza il framework, e poi quindi senza cambiare le proprie abitudini di programmazione. Quindi i programmi sono scritti in Java, e tra l'altro tutte queste cose che noi vi diamo, come sempre, sono open source, quindi voi in teoria potete disporre non solo del prodotto finale, che è da una parte la piattaforma OMS3, dall'altra le componenti che noi vi forniamo, ma anche dei codici sorgenti, dai quali volendo potete imparare. OMS3 ci fornisce la base di tutte le funzionalità di cui noi abbiamo bisogno. Dal punto di vista dello sviluppo, questo ci ha permesso di ridurre i tempi, i costi di implementazione, ci ha permesso di introdurre delle analisi di qualità, che prima erano praticamente impossibili in questi codici estesissimi, e ci ha permesso anche di affinare un aspetto che a voi può sembrare secondario, ma che invece è importante per chi dà contributi, ed è quello di che è più facile riconoscere l'autorship di chi ha fatto cosa, perché qui ci sono delle componenti e spesso ciascuno fa una componente che poi si annisce al tutto. E allora è facile identificare che cosa è stato fatto da ciascuno, che non è poi una cosa secondaria. Questo per esempio è... In realtà in OMS3 si possono usare anche degli scritti in Python interni, ma noi non lo faremo, e ho degli scritti in R per chi conosce questo linguaggio. Poi recentemente sono stati introdotti in OMS anche degli strumenti di machine learning, cioè queste tecniche statistiche basate... Qualcuno chiama intelligenza artificiale a cose di questo genere, che permettono di analizzare i dati in modo semiautomatico e di trovare dei pattern all'interno dei dati che all'ascolto, alla visione di magari delle persone o anche dei ricercatori anche allenati non sono così evidenti. Utilizza anche un'infrastruttura che sta sotto che è per la parallelizzazione implicita delle componenti, cioè due componenti, non solo sono eseguite in sequenza, quando sono in sequenza, ma se non sono in sequenza e possono essere eseguite in parallelo, vengono eseguite in parallelo. Questi sono un po' i riferimenti principali per chi fosse interessato abbia una passione più informatica rispetto ai problemi. Io questa parte di lezione ve l'ho menzionata appunto anche per dirvi che c'è tutto un mondo dietro sul quale, come avete visto, lo sviluppo di questi modelli risale ancora a vent'anni fa, quindi c'è una grande quantità di pensiero che è stata spesa per vedere, per utilizzare quello che voi adesso utilizzate. Ci sono delle domande? Delle curiosità? Se non ci sono delle curiosità, allora adesso passiamo alla presentazione.